Figlio d'arte. I genitori sono attori di teatro. Nasce alla Spezia il 25 marzo 1990. Trasferitosi con la famiglia a Roma nel 1994. Passerà all'adolescenza e proseguirà la carriera scolastica nella capitale. Diplomato al liceo classico Giovanni Paolo II di Ostia Lido. Roma. La prima esperienza come attore risale all'età di otto anni quando interpreta un ruolo nello spettacolo teatrale Il Sempione strizza l'occhio al Freius di Elio Vittorini. Per la reggia di Italo Spinelli. In seguito è protagonista per due stagioni. 1-999-2000. Nello spettacolo Zio Mario per la reggia di Mario Prosperi al Teatro Politecnico di Roma. Nel 2002 è il figlio di Rocco Papaleo ed Elena Sofia Ricci nel pranzo della Domenica di Carlo. Vanzina. Nel 2007 viene scelto dal casting director Dario Ceruti. Unione italiana casting director. Per interpretare il ruolo di Cesare Schifani nella serie TV liceali. Per la reggia di Lucio Pellegrini. Nel 2008 riceve il premio come personalità europea emergente. Assegnatogli dal Ministero del Turismo. Nel 2009, al termine delle riprese della seconda stagione dei liceali. Viene ammesso al Centro Sperimentale di Cinematografia di Cinecittà. Scelta che gli garantisce una formazione professionale di livello. Ma che tuttavia gli preclude una continuità lavorativa. Durante il triennio di formazione al Centro Sperimentale partecipa numerosi cortometraggi e lavori teatrali. Nonché alla serie web Alice non lo sa diretta da Alessandro Guida. Nel 2010, con il cortometraggio Tiro a vuoto di Roberto Zazzara. Vince il premio come miglior attore al Figari Film Fest. Nel 2011 è protagonista di puntata nella serie Sposami di Umberto Marino. Nel 2011 è il protagonista di Fat Cat di Michele Fiascaris. Film che gli è valso diversi riconoscimenti come migliore attore nei festival americani ed europei. Sempre nel 2011 viene scelto come protagonista nel film Centometri dal Paradiso di Raffaele Verzillo. Nel 2012 è il protagonista di La Terra e il Vento. Opera prima del giovane regista Sebastian Maulucci. E partecipa alla web series Kubrick. Una storia porno dei The Jekyll. Nel 2013 prende parte al progetto L'Arpers to Protect and Play. Per la regia di Umberto Francia. Nel ruolo di Marco, e interpreta il ruolo del protagonista nel film Il Terzo Tempo di Enrico Maria Artale. Nel 2014 interpreta il ruolo del figlio di Carlo Verdone nel film Sotto una buona stella ed è protagonista della serie Netflix Marco Polo. Nel ruolo di Marco Polo.